Obiettivi e prospettive chiare per studiare progetti comuni utili alla ripresa territoriale post-Covid. Da queste basi è nato il convegno convocato dalla provincia di Pesaro-Urbino per discutere insieme a diversi sindaci dei comuni, e non solo, delle opportunità territoriali da cogliere grazie agli strumenti che verranno messi in campo a livello nazionale ed europeo, tra cui le fondamentali risorse del Recovery Fund. Al centro del dibattito per incrementare il rilancio delle economie locali, non solo l'importanza delle prospettive destinate alle infrastrutture, ma anche le potenzialità derivanti da altri settori, come quelli dei servizi essenziali. Ho voluto questo incontro anche con alcune associazioni, naturalmente non ho potuto invitare tutti, ma questo sarà il primo di una serie di incontri che organizzeremo come provincia. Il fatto è questo, con il Recovery Plan, con i finanziamenti che arriveranno e arriveranno parecchi soldi. Noi o siamo tutti uniti come territorio oppure rischiamo di fare un flop nell'acqua, cioè dobbiamo essere uniti come territorio tutta la provincia, presentare dei progetti credibili che diano risalto e che mettano in primo piano lo sviluppo che noi vogliamo dare al nostro territorio. Parleremo anche delle cose che sono andate anche nei giornali ultimamente, che sarà l'idrico, che saranno i rifiuti, che saranno poi le strutture scolastiche, sia i dirigenti che i sindaci. Io sogno di avere delle scuole veramente nuove, non dei palazzi per quanto belli, storici, ma che sono oramai superati a dimensione anche a livello di didattica, ma avere delle scuole nuove dove ci sia il piacere di andare a scuola. Poi c'è la viabilità, ci sono i ponti, ci sono tutta una serie di realtà che debbano essere seguite e migliorate e perché no anche nuove. Negli anni più recenti, parliamo di decenni ormai, anche se sono molto più recenti rispetto alle teorie tradizionali, si pone molto l'enfasi ad esempio sul ruolo del capitale sociale, quindi come un insieme di relazioni che si staranno in un territorio e che facilitano gli scambi di idee, gli scambi anche tra imprenditori, tra istituzioni e imprese. Quindi è un ambiente nel quale è più facile fare impresa, ad esempio. E in questa caratterizzazione del territorio, mediante questa nuova dimensione che è appunto quella del capitale sociale, un ruolo importante viene svolto anche dalle utilities di queste società che offrono dei servizi di tipo essenziale, quale l'energia, l'acqua, il trattamento dei rifiuti. Questi tipi di società possono svolgere un ruolo importante per attrarre sia imprese nei territori che anche giovani.